Questa è un po' più difficile, mamma mia! Ok Teo, ti faccio vedere un'immagine di un giocatore da piccolo e tu devi indovinarmi chiaramente chi è, qualcuno è veramente cambiato Non ti posso aiutare, è brasiliano, è cambiato tanto, il cappello non è più così lungo Ed è l'Inter, bastoni? Bravo, questo ti fa sorridere quando lo capisci Questo è... Guarda, è un tuo compagno? Cristiano? Questo è Pulisic? Lo sapevo Difficile, Juventus E... McKennie? Bravo Eh, questo sono io Ah, bravo È un tuo compagno Anche questo è il mio compagno? Difficilissimo questo Pallo Vai Nooo Guardalo È difficile, non è difficile Quasi Bravo È un po' più grande questo È un italiano Arsenal Arsenal Giorginio 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 Attenzione questo Mamma mia L'ultimo È Grilic Giorginio Shepherd Autore dei sorrisi